E buonasera, siamo in diretta su Radio Beckwith, sono le 5.10, siamo coi ragazzi di Radio Olimpia che per l'occasione mi hanno obbligato a iniziare io la trasmissione, io sono Alessia e colgo l'occasione per fare gli auguri a tutte le donne in ascolto e quindi può partire la Buonasera a tutti, ma che bella è stata questa apertura, abbiamo sentito una voce femminile oggi giusto così, quindi saluto Rocco in regia, Alessia a fianco a me, Nicola, Andrea che ci sta filmando, l'altro Andrea che non lo vedo, lo salutiamo, Patrick sta ancora bene dentro il caffè, non c'è Andrea, quindi come avete sentito una voce femminile aperta la nostra trasmissione, una cosa che non mi è piaciuta è l'obbligato, sono stata obbligata, 5 minuti prima della trasmissione, non è vero, non è assolutamente vero, si è offerta, è soltanto incatenata sulla sedia, adesso farà tutta la trasmissione con noi, sono contentissima di essere qui, allora c'è Alessia in diretta, tra l'altro tu sei di casa perché sei di Luzerna, però non sapevi dove era la radio, no non c'è, dettagli, dettagli, comunque approfitto di radio, vi lasciamo l'indirizzo per venirci a trovare, no non è vero, vi lasciamo il numero per mettervi in contatto con noi, dico tu lo sai il numero, no non lo so, resta tu lo sai il numero, eccolo là, 339, 339 6300192, le frequenze questo è di Pei, questo è di Peiro questo, ah il numero, eh sì il numero lo dice sempre lui lo dice così, 339 6300192, no vi lasciamo le frequenze per ascoltarci, allora 8800 in Val Chisono, 8780 Val Pellice Pinerolo e 9800 in Val Chisono, 8780 Val Pellice Pinerolo e